Comando bersaglio sul mezzo terrestre Bersaglio fuori vista, quali ordini comando? Ricevuto, proseguire in seguimento Tornate in posizione, bersaglio verso Tornate in posizione, bersaglio verso Contatto nemico, indiviso Ricevuto, contatto nemico, schieramento rinforzi Non vedo il nemico, inizio a cercare Comando, il nemico non è più in vista Roger, riacquisire bersaglio Abbiamo perso il bersaglio, abbassiamo le armi per ora Abbassiamo le armi per ora Sì, lancio i rifornimenti 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 Grazie a tutti 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 Rifornimenti Rifornimenti confermati Attenzione di sotto Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti